Buongiorno a tutti, io sono Francesca Bertamauri, Ilaria Zanelotti di Amazon Italia. Piacere, allora la nostra presentazione sarà in due parti, inizio io con l'introduzione e poi Ilaria vi darà altre informazioni specifiche su Amazon. Allora, noi oggi non siamo qui per darvi le nostre impressioni sull'andamento del mercato del fai-da-te o su trend futuri, in quanto credo che il 90% della platea qui presente ne sappia, almeno su questo, ben più di noi. Infatti molti di voi sapranno che abbiamo aperto il nostro negozio del fai-da-te un anno fa, circa, il primo ottobre del 2013. Siamo invece qui per presentarvi Amazon come potenziale piattaforma per sviluppare il vostro business del fai-da-te, sia che siate produttori, sia che siate distributori, sia che siate retailer voi stessi. Innanzitutto vi farei tre domande per capire la platea con cui stiamo parlando. Quanti di voi conoscono Amazon? Se alzate la mano. Perfetto, bene, grazie. Quanti di voi sono clienti Amazon? Hanno almeno acquistato qualche cosa su Amazon? Bene. E quanti di voi hanno dei propri prodotti ad oggi in vendita su Amazon? Ottimo. Quindi credo che sarete interessati a capire meglio come funziona Amazon. Dunque, chi è Amazon? Amazon è un retailer? Sì, è un retailer. È un marketplace? Sì, è un marketplace. Ilaria poi vi spiegherà nel dettaglio meglio che cos'è marketplace perché non è molto ben conosciuto, ma invece è una grossa opportunità di sviluppo del business online. È una technology company? Sì, è anche una technology company. E oggi parleremo delle prime due fattispecie. Intanto volevo condividere con voi, con chi di voi ancora non conosce, quelle che sono la nostra vision e la nostra mission. La vision di Amazon è quella di essere la società più orientata al cliente del mondo, diciamo. Tutto ciò che noi facciamo, tutte le decisioni che prendiamo, partono dal cliente. Scusatemi. Partono dal cliente e tutti i processi dietro ragionano al contrario. Cosa è meglio per il cliente? E noi lavoriamo in back office, diciamo, per portare al cliente ciò che vuole. E quindi questo nostro forte orientamento al cliente, credo che se voi avete comprato su Amazon, conoscete bene che cosa intendo. Qual è la mission di Amazon? Beh, la nostra mission è molto ambiziosa. Vogliamo vendere tutto. Quindi vogliamo che il nostro cliente che entra su Amazon possa trovare tutto quello che cerca. Quindi potenzialmente una selezione infinita di prodotti. Allora, l'evoluzione del mercato online in Italia. Voi sapete quante persone in Italia sono connesse, hanno una connessione a internet? Allora, dei dati audio web, circa 39 milioni di persone sono connesse a internet, hanno una connessione a internet. E ogni giorno, beniamente, 13 milioni di clienti, 13 milioni, scusate, di utenti navigano sul web. Quindi è un numero impressionante. Chiaramente non tutti navigano per comprare, navigano anche per informarsi. Dai dati Comscore, che sono pubblicamente disponibili, che vi invito anche a guardare sul sito Comscore, a luglio 2014, oltre 8 milioni di visitatori unici hanno cliccato sul sito Amazon.it dal loro PC. Specifico dal loro PC perché Comscore non rivela i click tramite mobile, che chiaramente è un canale che si sta sviluppando anch'esso. Questo per farvi capire quello che è il potenziale, la visibilità che ha Amazon sui consumatori. E quindi l'importanza che può avere la vostra presenza, la presenza dei vostri prodotti sul nostro sito. La storia del sito Amazon.it, che è aperto nel 2010 già con una buona selezione di categorie di prodotto, vedete in giallo nel 2013 il lancio del fai-da-te. Per quanto riguarda il 2014, oltre ad aver allargato la nostra offerta, abbiamo anche lanciato il servizio Sera, che non è proprio una categoria di prodotto, però ci tenevo a parlarvene, perché per noi è veramente un passaggio rilevante per il nostro cliente. In quanto, per il momento solo per il Comune di Milano, chi acquista entro mezzogiorno ha la possibilità di ricevere il prodotto entro le nove della sera stessa. Questo la dice lunga su quello che è il nostro servizio al cliente, quello che vogliamo portare ai nostri clienti. Come siamo strutturati in Italia? Abbiamo gli uffici commerciali a Milano, il customer service a Cagliari e un magazzino a Castel San Giovanni. Il magazzino è stato aperto nel 2013, a fine 2013, questo magazzino, perché prima ne avevamo un altro. L'attuale magazzino è di circa 87.000 metri quadri. Per farle proporzioni sono 12 campi da calcio, quindi veramente impressionante. Quali sono i vantaggi del canale online? Allora, noi in Amazon la chiamiamo la coda lunga. Che cosa vuol dire? Vuol dire che cerchiamo di ampliare la gamma di prodotti offerti ai nostri clienti fino ad arrivare, per raggiungere appunto la selezione infinita che vogliamo raggiungere. Quindi, se guardate sull'asse orizzontale, abbiamo l'ampiezza della selezione dei prodotti e sull'asse verticale invece il volume di vendita. Quindi quando ci riferiamo a una tipica offerta offline, stiamo sul primo segmento a destra. Quindi chiaramente il volume di vendita per unit è molto più alto perché si vendono i prodotti più altorotanti, perché chiaramente avendo limiti di scaffale si sta sugli altorotanti. Se già portiamo la selezione che abbiamo nel nostro magazzino e come vedrete non è solo quella che rileva per il nostro cliente, abbiamo un ulteriore incremento di disponibilità di prodotti per i nostri clienti. Poi abbiamo Amazon Advantage che rileva sulla parte editoriale che come sapete è una grande componente del nostro business. e poi abbiamo marketplace che se vedete è la parte che dà il maggior impatto all'allargamento della gamma e quindi su questo poi vi daremo ulteriori dettagli. La parte arancione invece rileva sul digitale che è il make on demand e porta l'asintoto di questa curva fino all'infinito. Qual è quindi il vantaggio di questa coda lunga? Lo vediamo sul ciclo di vita del prodotto. Se guardate la curva tratteggiata sopra, che è la curva di vita del prodotto in Amazon, potenzialmente non ha un declino il prodotto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che fino a che un produttore è in grado di fornirci un prodotto o di proporre il proprio prodotto come marketplace sul sito e ci sarà sempre un cliente che lo guarda o che lo acquista, quel prodotto avrà sempre uno spazio sulla nostra vetrina. Abbiamo raccolto anche dai nostri consumatori, che sono milioni in tutto il mondo, il ranking di quelli che sono i valori che loro percepiscono più importanti. In ordine di importanza abbiamo come prima importanza la selezione dei prodotti. ed è questa la nostra mission, quindi dare al cliente l'opportunità di vedere e di acquistare la maggiore ampiezza di catalogo possibile. E come vedete la selezione dei prodotti per i nostri clienti viene ancora prima del prezzo. Chiaramente il prezzo è una componente rilevante per tutti i clienti, e anche su questo noi cerchiamo di offrire condizioni competitive. E poi c'è la disponibilità, quindi non basta solo avere una scheda prodotto, sul sito, ma bisogna anche avere il prodotto disponibile. Noi vogliamo che se il cliente visita una scheda prodotto, decide di comprare quel prodotto, in due giorni può averlo a casa sua. La comodità. La comodità in momenti come questi, in cui la vita è frenetica, non si ha mai tempo per andare in giro, per vedere le cose, e per dedicare molto tempo agli acquisti. La comodità di poter ricevere a casa propria, o nel proprio ufficio, o dove si vuole, perché con Amazon potete farvi spedire i prodotti dove volete, è chiaramente un vantaggio per i nostri clienti. E poi l'informazione. Chiaramente noi non avendo negozi fisici, i nostri clienti basano le loro scelte sui dettagli di prodotto che vedono sul sito. Per questo noi chiediamo ai nostri fornitori di essere sempre il più dettagliati possibili nel fornire le informazioni di prodotto, perché di fatto sono questi i valori importanti per il cliente per prendere una decisione. Quindi tanta più informazione c'è sulla scheda di prodotto e tanto più il cliente ha la base per prendere una decisione consapevole. E poi la scoperta. Per chi di voi ha acquistato, è cliente o ha navigato su Amazon, si sarà accorto che quando andate sulla scheda di un prodotto noi portiamo dei suggerimenti. Dei suggerimenti basati su che cosa? Sui comportamenti di acquisto di altri clienti, quindi altri clienti che hanno visto questo prodotto hanno visto anche, piuttosto che altri clienti che hanno comprato questo prodotto hanno visto anche o hanno comprato anche, oppure suggeriamo accessori relativi a un prodotto principale che il cliente vuole comprare. Vogliamo far scoprire al nostro cliente tutti i prodotti che ci sono nella nostra selezione. Adesso veniamo un po' al cuore della nostra presentazione. Come si fa a vendere su Amazon? Abbiamo visto nella prima slide che Amazon è un retailer e Amazon è un marketplace. Allora, quando è retail e quando è marketplace? Abbiamo messo anche due schede prodotto per darvi l'idea di come si distingue un retail dal marketplace. Amazon retail è quando voi vedete venduto e spedito da Amazon. Amazon marketplace è quando sulla scheda di prodotto vedete venduto e spedito da una terza parte che non sia Amazon. Nella parte retail Amazon si configura in tutto e per tutto come un retailer, quindi acquista il prodotto, emette ordini di acquisto, acquista il prodotto, fa contratti commerciali di fornitura, tiene i prodotti a magazzino, e si occupa in toto dell'evasione degli ordini. Quando invece parliamo di marketplace, invece è la terza parte che ha i prodotti, le lista, definisce il prezzo di vendita, gestisce l'evasione degli ordini o direttamente al cliente finale o tramite la nostra logistica di Amazon. Non mi dilungo su retail ulteriormente, vi dico solo che fuori, dopo la presentazione, abbiamo una scatolina Amazon in cui raccogliamo i biglietti da visita di chi di voi è interessato a lavorare con noi come retailer, mentre passo la parola a Ilaria che vi spiega meglio come funziona Marketplace. Grazie. Buongiorno a tutti, l'obiettivo della mia presentazione è raccontarvi che cos'è Amazon Marketplace, che forse è la parte meno nota a tutti di Amazon, e in particolare raccontarvi che cosa Amazon Marketplace può fare per aumentare e migliorare il business di tutti i venditori professionali. Amazon Marketplace offre due servizi, vendere su Amazon e logistica di Amazon. Cos'è vendere su Amazon? Qualsiasi venditore terza parte ha a disposizione la piattaforma di Amazon.it per caricare il proprio catalogo e venderlo direttamente al cliente finale, quindi utilizzando la piattaforma di Amazon per avere accesso a gli otto milioni di clienti che citava Francesca che ogni mese navigano e acquistano sul nostro sito. Come funziona in pratica? Ogni venditore ha la possibilità di iscriversi, crearsi un account venditore e caricare il proprio catalogo, le proprie schede prodotto, definire i propri prezzi e mettere, rendere i prodotti visibili a qualsiasi cliente su Amazon.it. A quel punto i clienti visualizzano i prodotti, li acquistano e il venditore direttamente spedisce il prodotto al cliente e Amazon si occupa di trasferire il pagamento e accertarsi che non ci siano problemi di frode, che comunque dal punto di vista della sicurezza tutto sia garantito. Per quanto riguarda i venditori professionali che noi definiamo come i venditori che hanno un catalogo piuttosto ampio, parliamo di 400 referenze come pur esempio, offriamo anche dei servizi diciamo gratuiti che aiutano il venditore a iniziare la propria attività sul sito, quindi offriamo per esempio un team dedicato che aiuta il venditore a creare il catalogo e a fare l'integrazione tecnica, offriamo un account manager che può gestire e aiutare il venditore per il suo primo periodo sulla piattaforma e all'inizio la membership è assolutamente gratuita, quindi il venditore terzo non corre in realtà nessun rischio, non ha nessun costo fisso nel provare a iniziare a vendere su Amazon. Quali vantaggi porta diventare venditore professionale sulla nostra piattaforma? Come dicevo gli articoli, i prodotti sono immediatamente visibili agli 8 milioni di clienti che abbiamo. Il logo del venditore è disponibile come faceva vedere prima Francesca nella scheda prodotto un prodotto venduto da un venditore terza parte appare come venduto da Pinco Pallino quindi con il suo nome e il venditore terza parte ha accesso non solo al mercato italiano ma a tutto il mercato europeo Amazon è presente in Europa in Germania in UK in Francia in Spagna in Italia un venditore che crea un proprio account un proprio conto venditore su Amazon.it può immediatamente il giorno dopo rendere visibili i propri prodotti anche sulle altre quattro piattaforme europee quindi estendendo immediatamente il proprio il proprio business a livello europeo non ci sono come dicevo impegni costi di inserzione nulla di tutto questo quindi è diciamo un tentativo che un venditore può fare a costo a costo zero e Amazon garantisce il pagamento quindi protegge i pagamenti protegge da eventuali eventuali frodi si è bloccata ok dicevo il venditore può mettere i prodotti su Amazon e venderli e spedirli direttamente al cliente può anche decidere di utilizzare il servizio di logistica di Amazon quindi può mettere i prodotti su Amazon e far gestire l'ordine la spedizione l'eventuale reso ad Amazon che cosa vuol dire in pratica vuol dire che il venditore invia i propri prodotti al nostro magazzino di Castel San Giovanni i prodotti sono nel magazzino insieme ai prodotti acquistati da Amazon e nel momento in cui il venditore riceve un ordine è Amazon che si occupa di imballare il prodotto spedirlo al cliente gestire l'ordine e gestire anche l'eventuale reso ci tengo a sottolineare che logistica di Amazon è sicuramente un vantaggio perché aiuta tutta quella che è la gestione logistica non tutti magari sono attrezzati a gestire il rapporto one to one con il cliente ma il principale vantaggio che ha logistica di Amazon è che aumenta le vendite di un venditore rispetto a diciamo la gestione autonoma quindi la spedizione diretta al cliente questo perché diciamo che nel momento in cui un'offerta prodotto è gestito da Amazon il cliente che tendenzialmente ha molta fiducia in Amazon ha ancora più fiducia diciamo in questo tipo di offerta quindi il fatto di sapere che il prodotto è spedito da Amazon aumenta aumenta la fiducia del cliente sull'affidabilità del servizio e sulla consegna rapida quindi questo aumenta sicuramente diciamo la probabilità di acquisto del prodotto inoltre le offerte gestite tramite logistica di Amazon anche se sono di venditori terze parti vengono visualizzate come Amazon Prime non so quanti di voi sono familiari con questo programma è il nostro programma di diciamo fidelizzazione clienti per cui le offerte Amazon Prime i clienti Amazon Prime ricevono consegne rapide e in alcuni casi gratuite le offerte dei nostri venditori che utilizzano logistica di Amazon vengono considerate come offerte Amazon Prime a tutti gli effetti si tratta anche ovviamente di un risparmio di tempo e di risorse da parte dei nostri venditori per cui come dicevo prima l'onere logistico affidato ad Amazon libera sicuramente tempo per altro e il cliente appunto è tendenzialmente molto più disponibile ad acquistare un prodotto gestito dalla logistica di Amazon proprio per la sicurezza del servizio questi sono alcuni esempi di nostri venditori che diciamo citano come la logistica di Amazon ha migliorato il proprio business e come vedete sono motivazioni sia di semplificazione del business migliore organizzazione ma soprattutto motivazioni di maggiore opportunità e incremento delle vendite legate alla logistica aggiungo che il servizio di logistica di Amazon è un servizio non solo legato al mercato italiano ma anche in questo caso ai 5 marketplace europei per cui nel momento in cui un prodotto è disponibile nel nostro centro logistico può essere spedito in tutti i paesi come vedete dalla mappa diciamo abbiamo vari centri logistici in Europa e il prodotto può essere anche spedito dal venditore direttamente nei centri logistici all'estero e in questo modo diciamo il venditore ha la possibilità di veramente raggiungere i propri clienti in tutti i marketplace di Amazon se siete interessati a diventare venditori su Amazon sono qua fuori insieme a Francesca per raccogliere i vostri contatti rispondere alle vostre domande sottolineo che una persona un venditore può diventare venditore di Amazon anche autonomamente attraverso il nostro sito registrandosi senza nessun tipo di filtro da parte nostra se non ovviamente filtri legati a questioni legali ma ognuno è libero di cominciare a vendere su Amazon caricando i propri prodotti e avviando la propria attività attraverso il marketplace attraverso il nostro attraverso il nostro